La domanda che mi pongo giornalmente al mio lavoro è se ci sono dei trend tecnologici delle novità nei business model che potrebbero generare un cambiamento disruptive nel mercato della system integration. A mio avviso ci sono tre trend a tenere sott'occhio che potrebbero fare la differenza. Il primo è il cloud sta crescendo tantissimo e diventa sempre più strategico dotarsi di una piattaforma per abilitare questo mercato e per ridurre il rischio di essere tagliati fuori. Il secondo è sicuramente l'intelligenza artificiale, non solo quella che verrà venduta agli utenti finali ma l'intelligenza artificiale di cui i system integrator si doteranno all'interno dei sistemi, all'interno dei processi. E ultimo ma non ultimo la tendenza a vendere un servizio gestito invece della rivendita classica del prodotto, dell'hardware o del software. Ecco, per tutti questi trend, Aro è qui per supportarvi. Alla prossima!